Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo? Disponiamo di un tempo limitato sulla Terra. Vuoi diventare la persona che eri destinato ad essere? Non perdere tempo a vivere una vita inutile. Ma che sto facendo? Sfrutta ogni prezioso istante della tua vita e libera la tua vera essenza. Quella appassionale e travolgente. Che può lasciare un segno memorabile in questo mondo. Ho l'ingaggio! Mi serve un taglio di capelli per oggi. Ce la fai? Scusi. Ma che cosa? C'è nessuno? C'è nessuno? Come no?